Buongiorno, ieri è stata una giornata iniziata malissimo e proseguita ancora peggio. A un certo punto però ho incontrato una persona che non vedevo da parecchio tempo e questa persona è come se, con le sue parole, con il suo comportamento, con la sua generosità, è come se mi avesse regalato un'energia che nell'arco di quella mattinata mai avrei pensato che potesse scorrere attraverso il mio corpo. E quando accade, quando accadono questi incontri, è incredibile. E ci si rende conto di quanto una parola, un sorriso, possono davvero fare la differenza in una giornata e anche forse nella vita di una persona. Tra l'altro non me l'aspettavo, è apparsa dal nulla e vi assicuro che ha radicalmente cambiato la mia giornata, la prospettiva su quello che era successo e sull'intera giornata. E tant'è che la sera ho provato proprio uno di quei picchi emotivi che talvolta si provano e che ci fanno stare così bene con noi stessi, ai limiti quasi della euforia, dell'entusiasmo. Avevo una gran voglia di fare, di dare, ed è anche per questo che faccio questo video. Senza quell'incontro forse non avrei avuto l'energia e neanche la voglia necessarie a fare questo video. Ecco, adesso non vi sto a raccontare quell'incontro, spero magari di farlo in un'altra occasione. Un incontro, peraltro, non con un mio amico, in senso stretto, ma con quello che mi piace chiamare un testimone. Perché nella vita ci sono delle figure a cui non siamo legati da un rapporto di quotidianità. E che sono dei testimoni, figure, persone che incontriamo magari a distanza anche di mesi o di anni e che però ogni volta è come se nel nostro terreno lasciassero un seme. È come se indicassero una strada, una strada possibile. Mi piace chiamarli i testimoni. E in questa conversazione, col testimone, col mio amico, è venuto fuori il nome di uno scrittore, uno scrittore spagnolo, che si chiama Pablo Dors. E io questo Pablo Dors l'avevo scoperto proprio in Spagna, durante il mio viaggio. E questo amico mi ha consigliato la lettura di un libro, io invece non lo conoscevo e avevo letto quello precedente. Ed è proprio di questo di cui vorrei parlarvi. Di questo bellissimo libro chiamato Biografia del Silenzio, di Pablo Dors. Ricordo ancora quando l'ho trovato, quando l'ho presi a Madrid. Ero nella Gran Via, non so se la conoscete, ma è la via principale di Madrid, credo. Credo che sì, possa essere vista come la via principale di Madrid, la Gran Via. e quando uno entra in questa via è completamente inglobato, è sormontato da edifici altissimi, bianchi, chiarissimi, che ti sovrastano. E però c'è una grande eriosità in questa via. E entro alla casa del libro deciso, assolutamente deciso, a non comprare un libro. Ho detto no, quel giorno lì, tra l'altro era il giorno della festa del libro, una cosa del genere. Ho detto no, non compro nessun libro. E però alla fine appena entro e vedo sullo scaffale questo libretto, Biografia del Silenzio, che mi chiama. Comincio a leggerlo, e vi assicuro che io prima di entrare in questa libreria non ero troppo di buon umore. E comincio a leggere queste pagine, e qualcosa dentro di me comincia a muoversi. E infatti ricordo che poi uscendo da questa libreria, chiaramente con il libro in mano, le cose mi sembravano diverse. Sono tornato verso l'ostello, ma non ero più il Michele di un'ora, un'ora e mezza prima. Ed è proprio questo che vorrei sottolineare. Ieri con alcuni parenti parlavo della lettura, no? E loro mi dicevano, ma tu leggi, studi, parla con i nostri figli, di loro di andare bene a scuola. Ecco, questa è proprio una cosa che mi preme sottolineare. La lettura, la cultura, non c'entra nulla con la scuola, in un certo senso. E proprio questo legame, questa associazione tra lettura, tra amore per la lettura e per la cultura, e la scuola, intesa come gerarchia, come burocratizzazione, che spesso allontani i ragazzi dalla lettura. Invece è bello, a mio avviso, sottolineare che la lettura non è lettura. La lettura è incontri con persone, incontri con persone che possono cambiare il tuo cammino, emozioni e modi diversi di vedere le cose e di vedere se stessi. Ma adesso torniamo a Biografia del Silenzio. Io ce l'ho in spagnolo e, tra l'altro, è uno di quei libri che vorrei rileggere, sia perché, appunto, è in spagnolo, e io lo spagnolo non lo parlo così bene da intendere tutto quello che qui c'è scritto, ma poi anche perché è un libro aureo, è un libro d'oro. È un libro che per me è stato importante e che mi ha dato proprio molti spunti non di riflessione, ma anche molti spunti proprio pratici. È un libro sulla meditazione. È un libro sul silenzio ed è un libro profondamente autobiografico, in cui Pablo Dors si mette in prima persona e racconta la sua esperienza con la meditazione. Un'esperienza profondamente trasformativa che coltiva da tantissimi anni. Peraltro l'autore è un sacerdote, ma vi assicuro che leggendo questo libro voi non ve ne renderete conto, nel senso che è una prospettiva, come dicevo anche col mio amico ieri, talmente aperta, talmente esperienziale, intessuta con la vita, che questo proprio non si percepisce. Biografia del silenzio. E vorrei leggervi alcune parti anche per consigliarvi la lettura di questo libro. Magari a voi non farà l'effetto che ha fatto a me, perché mi rendo conto che ogni volta che consiglio un libro in realtà non faccio che parlare della mia esperienza. Voi magari lo leggerete, vi dirà meno, perché tutto dipende dal nostro percorso. Io non posso fare altro che condividere le cose che sono piaciute a me. E vi leggo appunto alcune parti. Le traduco sul momento, quindi accontentatevi di quello che dico. Allora, intanto, nelle primissime righe, Pablo Dors parla del suo percorso, del fatto che ha studiato filosofia, teologia, e di come si è arrivato alla meditazione. E qui già c'è un argomento decisivo. Uno magari dice, ah, ma quello studia filosofia. Ah, ma è una persona profonda. È davvero una persona profonda. È un saggio. In realtà non è affatto così. Uno può studiare filosofia, può laurearsi col massimo dei voti, può essere una persona profondamente capace, da un punto di vista intellettuale, eppure essere una persona tremendamente, davvero tremendamente superficiale. Non solo rispetto agli altri, ma proprio anche rispetto all'atteggiamento con se stessi. Perché poi alla fine questa intellettualizzazione, che promette di andare a fondo, in realtà, spesso e volentieri, significa rimanere in superficie. rimanere in superficie di grandi ragionamenti, senza però riconnettersi con se stessi, e quindi con il proprio mondo interiore. Questo è un tema che Pablo Dors sottolinea all'inizio del libro, quando parla delle sue iniziali resistenze, rispetto alla meditazione, e che poi approfondisce nel corso delle pagine seguenti. Vorrei però leggervi una parte, in cui Dors parla del suo egocentrismo. Grazie alla meditazione, incluso il narcisismo, mostrava un lato positivo. Grazie a esso, potevo perseverare nella pratica del silenzio e della quiete. Leggo questa parte perché mi sembra importante. Alcune volte noi ci concentriamo su quelli che percepiamo o che altri percepiscono come i nostri difetti, i lati in ombra del nostro carattere. Mi piacciono queste righe perché noi dobbiamo anche sempre tenere a mente che questi presunti difetti che abbiamo li possiamo anche vedere come delle scale per esperienze. in questo caso il narcisismo per i motivi che scoprirete leggendo il libro diventa una scala per perseverare nella meditazione. E a volte uno dice caspita ma ho conosciuto quella persona ma com'è che mi sono comportato con quella persona? Forse ho tenuto un atteggiamento di un certo tipo perché supponiamo c'era dentro di me una dinamica di un certo tipo. Una dinamica che a me non piace e che mi porta a relazionarmi in quel modo lì con quella persona o con quella tipologia di persona. D'accordo? Ma questo è un aspetto è un lato della medaglia ce n'è anche un altro proprio quell'atteggiamento lì che magari non ti piace fa sì che però tu conosca quella persona e conoscendo quella persona scopri magari delle cose che un domani ti potranno permettere anche di superare quell'atteggiamento che adesso non ti piace. E un po' come l'immagine cara a una certa filosofia di una scala che ti serve per arrivare in cima a un edificio e che però poi devi abbandonare. Questo mi sembra un concetto importante per le nostre vite. Le cose che anche non ci piacciono in realtà però ci stanno magari portando a fare delle esperienze e a incontrare delle persone grazie alle quali poi cambierà la nostra vita. E quindi chi lo sa forse anche quelle cose. E allora sono così brutte? Poco dopo Dors cita una grande filosofa Simone Weil. La pura osservazione è trasformativa. Come diceva Simone Weil che cominciai a leggere in quella epoca quando appunto cominciò a meditare non c'è arma più efficace che l'attenzione. E questo è un altro passo decisivo. L'attenzione. Portare attenzione alle cose. Si parla tanto no? Del lavoro su se stessi. Qui il concetto è un po' diverso. Non è che uno debba lavorare su se stesso. C'è proprio l'idea per cui io nella misura in cui guardo le cose già le sto trasformando. È un concetto che trovate anche in un video di qualche mese fa in cui parlavo a partire da un libro di Raffaele Morelli del tema dello sguardo. E qui c'è tantissimo. Il tema dello sguardo che non giudica che non commenta che non pretende di cambiare ma che semplicemente ti permette di entrare in contatto con chi sei con chi sei di volta in volta con il tuo mondo interiore che va evolvendosi. Facciamo un salto di qualche pagina. In realtà non c'è nessun problema in assoluto. Non abbiamo e tantomeno siamo un problema. Questo anche è decisivo perché un certo modo molto intellettualistico di vedersi fa sì che noi ci percepiamo come pieni di problemi pieni di problematiche. E già problema non è un termine neutro ma è già un termine che va a configurare in un certo modo il nostro mondo interiore. Un problema quindi è un problema che ha una soluzione e il modo per arrivare alla soluzione quindi è il ragionamento e la riflessione. E poi spesso quando uno comincia a vedere un problema ne vede anche un altro e poi un altro ancora e si arriva a un punto in cui uno dice ma come faccio a essere vivo se sono così pieno di problemi? Ed Ors dice in realtà non c'è nessun problema in senso assoluto. Non teniamo un problema e tantomeno siamo un problema. I problemi ci piacciono perché ci danno l'impressione che senza questi problemi potremmo davvero essere potremmo vivere. E qui il problema vero sono i nostri falsi problemi perché a volte il problema è proprio il fatto che noi vediamo determinate cose come un problema e quindi cerchiamo una soluzione e quindi non la troviamo e quindi andiamo in ansia quando appunto quello sguardo puramente quell'attenzione di cui si parlava prima forse è la vera via. E poi un'ultima parte. Ricordo benissimo quando lessi questa parte mi avevano appena cancellato un Blablacar per Barcellona però leggendo questa parte ho provato proprio grande risonanza grande emozione. Mi piacerebbe poi che voi la leggeste e che mi diceste. Siamo già verso la parte finale del libro e Dorse scrive Desidero avere figli Piantare alberi Scrivere libri Desidero scalare le montagne e nuotare negli oceani Sentire il profumo dei fiori Amare le donne Giocare con i bambini Accarezzare gli animali Ho imparato che è buona cosa dar la mano agli anziani Mirare negli occhi i moribondi Ascoltare musica e leggere storia Mi sveglierò la mattina e andrò a dormire la notte Mi gusterò i raggi del sole Ammirerò le stelle guarderò la luna e mi farò guidare dalla luna Desidero costruire case e viaggiare verso terre straniere parlare lingue attraversare deserti rincorrere sentieri assaggiare frutti fare amicizie sotterrare i morti Desidero conoscere tanti maestri che possano insegnarmi e essere maestro io stesso lavorare nelle scuole e negli ospedali nelle università perdermi nei boschi correre per le spiagge guardare l'orizzonte nella meditazione questo è bellissimo nella meditazione sento che non devo privarmi di nulla dal momento che tutto è buono la vita è su un viagge esplendido e para vivirla solo hai una cosa che deve evitarsi è il miedo che è